Due ragazzi si stanno conoscendo e c'è lui che fa tutto il romantico, no? La porta sul muretto dello zodiaco, davanti alla ringhiera, davanti a tutta Roma, la guarda negli occhi e gli fa Se fossi un astrologo, per te ruberei la luna. Se fossi un fioraio, ti regalerei i più bei fiori del mondo. Bravo. Ma visto che c'è un negozio di fuochi d'artificio, te posso dare un botto? La speglia di gladiatori di dimensione Suono Roma